Da ora possiamo creare questa bestemmia creativa. Che animale? Tutti! Eh, posso metterne quanti ne voglio? Non funziona così la bestemmia ed è difficile e pericoloso cambiarla a metà percorso. È che non ne volevo una specifica, ne volevo una tipo un evergreen. Dipende, la vuoi tirare solo in chiesa o... Beh, non lo so dove capita. Eh, va bene. Ora questa divinità potrà avere sembianze di tutti gli animali. Ah, ti ringrazio di cuore, vediamo. Suinide. Suinide! Che cos'è Suinide? Sì, dalle sembianze di un maiale. È molto importante che sia delle sembianze di un maiale. Ok. Vediamo di non cambiare più i parametri della Madonna mentre la lancio. Ok, ho finito, finito, giuro, ho finito, ho finito. Ah, però potrebbe anche essere Boia. Peter, non interferire con la bestemmia. È che stavo pensando che sarebbe divertente se fosse sia maiale che Boia, nel senso un bel contrasto. È Boia? Sì. Ah, grazie, grazie. Ladra. Ladra? Ma è già Boia. Sì, esatto, quel giusto nonsense che ci sta bene in una bestemmia. La smetti di parlare? Porco di... Ha funzionato? No. Hai cambiato la bestemmia sei volte. Cinque volte. Hai cambiato la bestemmia, non si fa, te l'avevo detto. Ciao.